Un saluto a tutti gli utenti del sito di bluerating.com. Siamo qui con Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. Grazie dottor Volpato per essere con noi. Grazie a voi e un saluto a chi ci segue. Dunque questo è stato un anno particolare, quello che ci siamo lasciati alle spalle, un anno caratterizzato dalla pandemia del Covid-19. Chi ha seguito le cronache sa benissimo quali sono le difficoltà che l'economia italiana ha vissuto negli ultimi mesi, però in questi ultimi mesi diciamo che il ruolo sociale del consulente finanziario è emerso in tutta la sua importanza ed è un ruolo sul quale Banca Mediolanum ha sempre insistito. Possiamo spiegare perché voi avete sempre puntato sul ruolo sociale del family banker e in generale del consulente finanziario? Direi che il motivo va ricondotto un po' al contesto, è avere chiaro il contesto che ci fa comprendere perché questa che è un'autentica scelta di campo ha delle fondamenta veramente solide. Il contesto ci dice che stiamo assistendo a delle importanti trasformazioni sociali e demografiche e queste sono di portata epocale. Faccio degli esempi, il welfare sarà sempre più avaro di garanzie nella sanità, nella previdenza e tutto quanto questo in un contesto nel quale i progressi della medicina, quelli progressi legati alle condizioni di vita, ci stanno regalando delle esistenze che sono sempre più lunghe. Io cito soltanto il dato delle tavole di mortalità dell'Istat e ci dicono che la persona più longeva attualmente di vita ha 119 anni. Ma per comprendere la portata di questo, che si tramuta in vere e proprie sfide che ci attendono, dobbiamo secondo me dare uno sguardo ad altri numeri. Ma non sono numeri sterili, sono numeri che parlano di noi e delle nostre vite. A che cosa mi riferisco? Noi stiamo in Italia vivendo in un contesto dove attualmente, e cito gli ultimi dati disponibili in Istat, dove mediamente ogni donna ha 1,29 figli. E noi sappiamo che invece il punto di equilibrio, di equilibrio per non avere problemi in un'altra direzione, è a 2,11. Oggi le speranze di vita degli uomini a 65 anni e delle donne sono veramente delle speranze di vita importanti, perché sono tutte intorno o superiore ai 20 anni. In pensione oggi tra i 50, scusate, in pensione si va a 67 mediamente. Però oggi le persone che sono tra i 50 e i 64 anni si trovano ad avere un tasso di inattività del 43,5%, che significa che mediamente una su due, prima di andare in pensione, ha un periodo importante talvolta di inattività. C'è un altro tema legato sempre all'allungamento della vita, ed è che il 16% delle persone tra i 50 e i 64 anni hanno genitori anziani a carico. E questo in termini di proiezione ci dice che presto questo 16% si avvicinerà al 50%. C'è un altro dato che riguarda i nostri figli. Le persone della mia generazione, terminato il ciclo di studi, iniziavano a lavorare e immediatamente erano totalmente autonomi finanziariamente. Oggi l'età della indipendenza economica di un giovane di 20 anni è di 38 anni e le proiezioni dicono che fra i 10, quindi nel 2030, diventeranno autonomi dal punto di vista finanziario a 48. E sono tutti i dati che hanno delle implicazioni fortissime che noi non possiamo non considerare. Aggiungiamo un altro flash che è all'ordine della cronaca di questi tempi e mi riferisco alle prestazioni sanitarie. Ebbene, nel 2019, non quindi prima di Covid, un italiano su due, a prescindere dal proprio reddito, si era assegnato a pagare di tasca propria la prestazione sanitaria, senza nemmeno provare a prenotarla nei canali ufficiali. Quindi, se noi guardiamo questi numeri, emerge chiaramente che le esigenze con le quali ci confrontiamo rispetto al passato sono enormemente dilatate. E quindi, lo sforzo che noi facciamo nel risparmiare, sforzo incomiabile. Noi italiani siamo campioni del mondo in questo senso, perché abbiamo uno stock di risparmio tra la parte finanziaria e quella immobiliare, che non ha uguali nel mondo. Dico soltanto, un dato che quando lo racconto, le persone sgranano gli occhi, noi abbiamo il 33%, la famiglia mediteriana, il 33% di ricchezza accantonata in più di una famiglia tedesca. Quindi, campioni nel mondo. Però questo non sarà più sufficiente. Perché? Perché dobbiamo imparare a diventare bravi, non solo a risparmiare, ma anche ad investire. E in questo impegno, in questa presa di coscienza, il ruolo del consulente finanziario, e arrivo alla domanda che lei mi ha fatto, diventa assolutamente imprescindibile. Perché? È vero che siamo i primi e più virtuosi quando si tratta di risparmiare, ma non possiamo essere gli ultimi quando si tratta di prendere decisioni di investimento coerenti con le nostre vere esigenze. Il boom di liquidità, il boom del non investimento, la dice lunga. E questo succede perché in questa materia, cioè dell'investire, l'esperienza gioca un ruolo fondamentale e purtroppo, in questo caso, è un ruolo negativo. Noi vediamo da oltre 70 anni che le scelte di investimento italiane sono state concentrate sui titoli Stato. Perché? Perché l'acquisto del titolo Stato sembrava mettere insieme sicurezza, rendimento e semplicità. E questo è molto importante. In fondo era vero, anche se poi l'inflazione, quel rendimento lo ridimensionava molto. Oggi però ci troviamo in un mondo totalmente nuovo. se guardiamo la tabella dei rendimenti governativi europei, noi vediamo Germania, Ollanda, Finlandia e quasi Austria a 30 anni sono totalmente negativi. Il termine negativo non è ancora stato metabolizzato dagli italiani. Nella nostra stessa Italia, per fare pari e quindi non avere rendimento negativo, dobbiamo investire a 5 anni e non guadagniamo niente. Perché il rendimento a 10, il rendimento lordo, è oggi lo 0,59. E quindi, anche se il rendimento oggi non abita più dove gli italiani erano abituati e trovarlo, noi dobbiamo far capire, e qua la parola chiave è in modo semplice, semplice e comprensibile, che di quel rendimento, perché il patrimonio di ognuno di noi è fatto da la parte che abbiamo messo noi, e uso un termine improprio, è la parte interesse. Quindi quello è il nostro patrimonio. Quindi dobbiamo far capire alle persone che del rendimento ne avranno un assoluto bisogno. Spiegando quindi quanto è importante associare all'impegno nel produrre reddito e nel risparmiarlo, il fatto che il denaro faccia la sua parte, cioè è lavori per noi.